pronto sì buongiorno buongiorno chi è senta sono un sto cercando genuino genuino io sono la nipote la nipote c'è genuino no è morto eh sì ah lei è la nipote sì è maggiorenne sì sì bene senti senta lei lo usa il preservativo ma eh ma no sa che oggi è la giornata anti AIDS e quindi noi dobbiamo quindi sull'elenco c'era scritto genuino e quindi sa eh mi dispiace purtroppo è morto ma comunque può dirmi lei lei eh usa il preservativo o no o lo fa usare insomma la persona con cui ha no guardi non non mi riguarda cioè non ha rapporti sessuali eh sì però no no comunque siano li ha senza preservativo sì sì ecco è sposata no eh però un fidanzato diciamo sì sì e con suo fidanzato ha dei rapporti non protetti eh diciamo sì e no eh quel no a che cosa corrisponde eh sì e no eh cioè forse non ha rapporti completi cioè nel senso a volte si usa a volte no a volte si usa e quando si usa eh perché si usa quando si usa e perché non si usa quando non si usa eh non solo Marzullo eh è una domanda un po' così ma insomma eh cioè quando lei non lo cioè lui non lo usa perché non lo usa e perché lo usa quando lo usa perché se quando non c'è nel momento che magari non ce l'abbiamo ah ecco quindi magari una volta siete sprovvisti del preservativo e fate lo stesso ma eh cosa vuol dire che lui deposita il suo sperma nella sua vagina no 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 eh si premonisce di eh certo di toglierlo prima eh certo giusto ma ce la fa sempre senza che qualche schizzetto entri prima è sicuro no sinceramente non abbiamo di questi problemi ah perché lei prende la pillola no no non prendo niente non ha problemi perché lui non cioè uno di voi è insomma sì sì siete fertili tutte e due eh certo ecco e lei non è mai rimasta incinta no no ecco eh ma se rimanesse cosa farebbe direbbe ah perché non ti sei messo il preservativo no non lo direbbe no sarebbe contenta quasi eh sì posso sapere esattamente quanti anni ha lei eh venticinque venticinque lui ne avrà due o tre di più immagino no la stessa età la stessa età benissimo e magari lui è stato il primo e l'ultimo oppure ce ne sono stati altri no no primo ah il primo ecco e quindi magari lui ha avuto qualche altra esperienza ecco ma non sarebbe bene avere sempre il preservativo averne una certa scorta o li finite perché fate molte volte l'amore allora li finite subito no 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 non capita spesso ecco che frequenza non capita spesso che frequenza settimanale bisettimanale trisettimanale mensile in che senso quante volte fate l'amore ah per esempio in una settimana no eh dipende dipende anche dalle opportunità dalle circostanze dalle certo eh dai luoghi eh certo perché voi non non avete un letto dove farlo eh no eh dove lo fate in macchina eh eh di solito eh perché ma in famiglia sanno della vostra del vostro fidanzamento oppure no? Sì sì eh siete fidanzati ufficiali eh ecco quindi però insomma queste cose no né a casa sua né a casa di lei cioè praticamente fuori eh fuori eh no no cioè sempre in macchina eh sì perché eh e la macchina eh si presta cioè abbassa il sedile? Sì ecco quindi è abbastanza comodo? eh certo eh certo eh la posizione è sempre la stessa oppure avete la possibilità anche di modificare le posizioni? No no è sempre la stessa? Sì cioè lui sopra e lei sotto? Eh è quella lì? Eh certo eh senta lei eh ne ricava godimento? Signorina? Normale eh come penso no 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 un momento normale eh lei prova l'orgasmo? Sì sì ne è sicura però la sento un po' eh titubante cioè lei sente quel piacere enorme? Sì 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 eh sì ma lo sente prima o dopo di lui o contemporaneamente? Beh eh sì anche insieme anche insieme no? E quando eh succede insieme lui non ha preservativo che fa? Lo toglie? Eh sì e priva se stesso e lei anche di un piacere ulteriore? No 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 è sicura? Sì sì ma quando lui lo toglie e deve eiaculare giustamente dove eiacula? Eh prende i fazzoletti ah e prende i fazzoletti ce l'ha lì pronti? Sì sì è tutto pronto no? Sì sì e quindi lui da solo prende dei fazzoletti e su questi fazzoletti che dove sono sulla sua pancia? Dove sono lì vicino? Sì 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 ecco eh eiacula dentro questi fazzoletti deve essere una soddisfazione enorme eh eh lei non l'aiuta magari? No una volta che lui ha estratto il pene non l'aiuta con la mano? No 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 perché si aiuta lui da sé? Sì eh sempre con la mano? Sì 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 e quindi su questi fazzoletti cioè con la mano prende i fazzoletti con l'altra prende il pene eh se lo masturba per per completare la 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 cosa e poi mette i fazzoletti sotto insomma è una operazione abbastanza è sempre riuscita questa operazione oppure qualche volta sì sì no no non è andato mai fuori dei fazzoletti e magari l'ha bagnato il pancino? No no accidenti ma che precisione la precisione e lo fate sempre alla stessa maniera sempre lo stesso modo dura sempre lo stesso tempo? Sì ecco sempre uguale non le è venuto a noia? No. Quante volte alla settimana? Non me l'ha detto forse? No no io ho detto dipende dalle situazioni. Ma una volta? Come può essere due tre? È di media dico? Eh sì di media di media. Due tre volte lo fate? Eh. Ecco ecco ma altri modi per fare cioè tipo bocca mano e cioè non fare proprio il rapporto completo? Sì? Capita? No no. No? Lei non ha mai assunto nella sua bocca il pene del suo ragazzo? No. Eh perché? Perché non non le piace? Non ne vedo il motivo. Cioè le fa schifo? No. Cioè diciamo non le piace avere in bocca quella cosa lì? Eh. Ecco e quindi il vostro rapporto è unicamente quello completo? Sì. Cioè lui come vuoi dire ha un'erezione? Sì sì. Ma lei non glielo tocca nemmeno con la mano? Sì a volte può capitare. A volte ma cioè lui praticamente ha un'erezione e glielo mette dentro? Ecco senza senza altre altre cose. Preliminari? Preliminari niente? Sì sì. E quali sono i preliminari? Vi baciate? Sì è normale penso come. Sì vabbè certo ma ci sono anche altre cose. Lui la tocca giusto? Sì. La tocca dappertutto? Eh. Giusto. E lei tocca lui? Sì. Lo abbraccia? Sì sì beh penso come fanno tutti no? Sì. Vabbè certo ma glielo tocca il pene? A volte. E i testicoli? No. Mai? No. Mai eh? No perché siccome soffre il sorletico allora. Ah lui? Scusami mi scappa un po' da ridere. Se lui soffre il sorletico allora non vuole che. Lei ha provato a toccardeli e lui insomma si mette a ridere. Eh no anche perché soffre. Lo soffre da me in tanto che c'è proprio non è possibile. È proprio la fuga quindi non. La fuga? Eh sì perché magari è una cosa che gli dà tanto fastidio. Anche un minimo sfioramento anche sotto le lacelle diciamo. Sì. E non so forse gli fa male. No ma è forse molto sensibile ecco allora soffre il sorletico ci sono quelli che lo soffrono e quelli che no. Ecco. Un po' dappertutto ecco anche lì anche nei testicoli. Questa non mi torna un po' nuova. Però a capita ci sono sicuramente tipi troppo sensibili e quindi schizza via eh immagino eh? E lei non vuole che schizzi via. No no no. Quindi voi avete questo. Ecco. Il rapporto è sempre nella vagina eh? Non da altre parti eh? No. Ma hai avuto rapporti anali? Ah. Purissime volte. Alcune volte sì? Sì ma raramente. Raramente queste volte a lei che effetto hanno fatto? Uguale. Ah uguale sì sì. Cosa vuol dire uguale? Cioè uguale alla vagina? Sì. Cioè lei sente piacere ugualmente? Non sempre. Cioè quindi nell'ano lei può avere anche un orgasmo? Sì ho letto anche nei libri che può accadere. Sì ma vabbè se lo so ma non bisogna leggere nei libri bisogna eh provarlo di persona. Quindi lei praticamente eh per lei è uguale davanti o di dietro? Giusto? Eh ha le stesse reazioni? Sente le stesse cose? No no io l'ho detto non sempre però. Non sempre. È più facile che senta sul davanti che sul dietro. Sul dietro l'ha fatto anche poche volte per la verità. Sì beh. Non ha mai sentito male però no? Insomma. E qui veniamo alle dimensioni del pene del suo ragazzo. Dimensioni piccole, medie o grosse? Eh che ne so. Vabbè è stato l'unico lo so però insomma più o meno se ne renderà conto. Insomma avrà visto qualche figura, qualche statua, avrà visto qualche filmettino un po' osè. No no. Mai. No. Proprio una ragazza retta eh. In questo senso anche si parlava del retto quindi proprio retta lei. Eh effettivamente quindi non ha un rapporto eccezionale col pene lei eh. Perché? Eh perché non lo tocca molto anzi quasi per niente non lo prende in bocca. Ha un rapporto pessimo anche con lo sperma. Eh eh. Perché lei vuole i fazzolettini e tutto il resto no? Mai che sia toccata da quella da quel liquido le farebbe schifo ingoiarlo? Sì. E beh e lui le l'ha chiesto? No no. Che cosa le ha chiesto che lei non ha voluto fare? Niente. Cioè quello che lui ha chiesto lei l'ha sempre fatto? Eh sì perché nel momento che io ho trovato la persona giusta mi è sembrato caso insomma. Sì sì il caso. Eh non è che. No no ma non è che abbiamo di questi problemi perché così è venuto spontaneo e. È venuto. Non è che è stata una cosa che magari lui me l'ha chiesta. No è venuto spontaneo. Eh ci credo. Non è come tante ragazze che magari così alla prima volta si buttano. Io non so così. Vabbè questo la prima volta è un discorso. No no. Non parlavo della prima volta. Conoscendo persone che alla prima volta si buttano non gli interessa niente. Quello che quello che succede succede. Sì sì no no ha ragione. Io sinceramente non so non so così. No no ma io parlavo anche non della prima volta ma delle volte successive. Cioè lui non le ha mai chiesto o tentato di avere un rapporto orale. No. E nemmeno lui nei suoi confronti? No. Cioè non ha mai non gliel'ha mai baciata insomma. Sì sì che c'entra. Quello sì però. Come sì sì che c'entra? Scusi allora dice no e poi sì. Lui le ha baciato la vagina? Sì. Allora perché lei non deve baciargli il pene? Gli ho detto perché prova soletico. Ma il pene dico il pene? Eh eh. Cioè scusi ma quando lui ha la penetra insomma? Prova soletico? Ride dall'inizio alla fine? No. No ma un conto con le mani? Sì. Eh penso che sia un po' diverso. Io parlavo della vagina quindi bisogna capirsi. Allora quando lui glielo infila nella vagina non sente soletico? No. Se lui glielo mette in bocca però sente soletico? No. Sto toccandolo con le mani. Con le mani sente soletico? Eh. Ma io parlavo della bocca. Non ci avete mai nemmeno provato? Sinceramente sì. Qualche volta sì ma l'ho detto sempre. Vedi che qualcosa c'è stato? Però a lei non piace? Sinceramente no. Senta eh da quanto tempo state insieme? Quattro anni. Quattro anni. Quattro anni? Quattro anni e mezzo eh. Avete intenzione anche serie di sposarvi? Eh ehm tra qualche anno sì. Lei pensa che lo farete in un letto solo la notte di nozze? Eh. Oppure potrà succedere anche prima magari? Non lo so questo non glielo so dire. Lei non ha mai la posizione come dire da dietro visto che avete avuto rapporti anali lei l'ha assunta no? Questa posizione la cosiddetta a pecorina. Sì. Ecco quindi eh in macchina lei mi ha detto sempre stessa posizione. Sì. Non è vero qualche volta anche da dietro. Eh. Eh no appunto perché io devo scrivere tutto capito? Perché lei mi sta dicendo le mie cose poi un po' le rettifica rettifica. Eh dopo capisce? Ma comunque in generale eh vedo che lei è una bella gatta morta. Eh sì no è proprio il tipo che io scrivo sotto questo rapporto tanto io non so il suo nome sia tranquilla lei è anonima per me è una ricerca così. Sotto tutte queste risposte che mi ha dato scrivo giudizio gatta morta. Eh scriva gatta morta ma. Sa cosa vuol dire gatta morta no? Eh? Cosa vuol dire gatta morta? Eh ma in che senso lei intende gatta morta? Gatta morta? Lei è una gatta morta cioè praticamente è una che insomma poca fantasia poca roba insomma insomma io mi sento di scrivere gatta morta. Scriva gatta morta? Io a me non mi risulta comunque. Ah no cioè lei allora è una gatta viva? Cioè quello che mi ha detto non è vero? Sì è vero però non cioè secondo me non sono cose personali che a me non mi va di di andarle a pubblicare. No non mi va di andare a dire no? Eh non mi va di andare a dire. È giusto hai ragione non mi va di andare a dire. Quindi magari può essere che io tra tutte queste cose che l'ho detto non gli ho detto la verità sinceramente. Non mi ha detto mai la verità? Pochissime volte io l'ho detto la verità perché io l'ho detto non non vede il motivo di andare a chiedere. Insomma lei no ma scusi eh lei mi ha detto un sacco di cose poteva dire mi rifiuto di rispondere eh eh vamo a posto no? Perché ha risposto a tutte queste cose. Ora io penso che lei ora dica di non avermi detto la verità ma che in realtà me l'abbia detta essenzialmente eh tranne qualche piccolezza per cui si era già corretta. Per cui insomma ora lei non cerchi di ehm camuffare la verità con la falsità. Io prendo per vero quello che mi ha detto. Ah lei prenda per vero quello che ha detto. Comunque sia io ma di alcune cose sì gli ho detto la verità. Eh mica di che cosa almeno se no l'indagine. Eh sì ma dobbiamo che dobbiamo fare come c'è tutto da caso. Ma tanto io non so nemmeno chi sia lei. Sia tranquilla i numeri li facciamo a caso. Eh io devo praticamente eh fare una relazione vera altrimenti non serve a niente. Eh sì ma io non c'è lei lo prende continuamente in bocca ingoia tutto e poi magari non sputa nemmeno giusto? No quello no. Non sputa? No no quello non mi è mai successo. Ma ingoia? Veramente. Ma ingoia? Che cosa ingoio? Ma che cosa? Va bene non sa che cosa. Se ha detto che non sputa sa quella cosa che avrebbe sputato. Ma ingoia? No. Non ingoia? No. Non esiste? Vede 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 non mi ha detta ancora la dimensione del pene. Piccolo, medio, grosso. Ce l'ho detto. Media. Media. Penso media. Ah beh media media. C'è un quanti centimetri stimati? Eh non lo so. Dieci, dodici, quindici, diciotto? La prima guerra mondiale. Che ne so. C'è questi numeri che lei mi ha detto entrano nella media? Ma eh dipende. Cioè se lei va da dodici a diciotto diciamo la media dal basso alla seconda media insomma. Cioè eh hanno scoperto un pene di un centimetro e mezzo in erzione eh che funziona oltretutto. Credo che quello c'è c'è esiste nel mondo un signore che ha di un centimetro e mezzo. Non credo che sia il caso del suo ragazzo. No. No eh. No. Beh senta io le auguro anche eh di sposarlo, di avere figli eh però senta dia o retta a me ogni tanto una leccatina della dia. Eh questi so fare i miei. Ma il gelato lo prende mai d'estate lei? Pochissime volte. Ho capito come il cazzo. Arrivederci. Buongiorno. Ciao. E vattene. Gattaccia morta. Se non c'è il soldazzo stasera io mi ammazzo. Passerò per pazzo ma non mi porto. Ma se c'è il soldazzo io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo non mi rompete.